Buongiorno e benvenuti alla segna di oggi, sabato 13 maggio. Vediamo quali sono le notizie più importanti oggi sui giornali. Diciamo che la differenza tra Repubblica e Corriere, che sono i due principali giornali italiani, è anche oggi notevole. Divertente perché un tempo i giornali erano fatti con lo stampino, almeno Repubblica e Corriere non è più così. Repubblica oggi parte su un'informazione politica, sul loro sondaggio, un sondaggio che lascia... Sono sempre divertenti i sondaggi anche se poi alla fine non si vota, insomma speriamo che più o più si vada a votare perché danno almeno l'illusione che gli elettori si siano espressi. In realtà non si è espresso nessuno perché sono soltanto i sondaggisti che si esprimono. E c'è un solito balletto sul primo posto nei sondaggi alle elezioni eventuali in Italia, cioè tra il PD e il Movimento 5 Stelle. La notizia di oggi è che il PD con il 28,5% avrebbe un percentuale in più rispetto ai 5 Stelle che sono al 27,5%. Terzi Forza Italia al 13,3%, quarti Lega con 12,9%. Il che vuol dire che i tre raggruppamenti più o meno si equivalgono tra PD, Movimento 5 Stelle, Forza e Centro-Destra. Però ci sono tante variabili, la prima è la legge elettorale, quindi questi sondaggi lasciano il tempo che trovano perché se non sappiamo la legge elettorale i sondaggi valgono zero. E secondo le aggregazioni, ad esempio Forza Italia e Lega, oggi c'è un'intervista a Salvini, mi sembra proprio sulla Repubblica, in cui dice io non ci penso proprio a fare il cespuglio di Forza Italia. Quindi lasciano veramente il tempo che trovano. Sono sempre un esercizio per chi si appassiona di politica interessante, così come leggere decine di pagine sulle leggi elettorali, che io lascio completamente perché sono del tutto inutili, perché è chiaro che soltanto il chiacchiericcio di questi giorni parliamone quando ci saranno e quando ci sarà qualche cosa di concreto. Invece il Corriere della Sera, invece che sui sondaggi che non ha fatto, li farà anche lui ovviamente, anche se il giornale più sondaggista è Repubblica, in genere è Repubblica che spara i sondaggi, anche se lo fa il Corriere alcune volte, il Corriere invece parla dell'attacco degli hacker in 70 paesi diversi e questi hacker avrebbero rubato, pensate un po' voi, un virus, sapete da chi? Dei servizi segreti americani. Questa volta quindi sono i servizi segreti americani che stavano studiando un virus e gli hacker, sempre russi, si sospetta, hanno rubato il virus americano. Ma perché gli americani studiano un virus? Questa domanda qualcuno se la deve porre per hackerare qualcun altro, sempre cattivoni, no? Come immaginiamo che sono gli hacker americani, mentre i russi sono sempre i cattivi, mentre gli americani sono sempre i buoni. La vita è un po' diversa. Comunque quello che è certo è che stavano facendo questo virus. e glielo beccano un gruppo di pirati e questo gruppo di pirati li utilizza per affari loro che non hanno nulla a che vedere con la politica perché blocca i siti di centinaia di ospitali in giro per il mondo, 70 paesi e chiede riscatti tutto sommato molto contenuti perché sono 300 dollari in bitcoin, quindi niente, perché in genere questi riscatti sono molto superiori. Cosa ci insegna questa storia degli hacker che mi sembra molto più interessante rispetto ai sondaggi del PD? Intanto che la nuova frontiera del terrorismo che noi sottovalutiamo è esattamente questa perché bloccare il sistema informatico di un ospedale, ad esempio, ha voluto dire, soprattutto in Gran Bretagna tutti i giornali inglesi titolano su questo, che non si sono fatte operazioni, che sono stati mandati a casa ai pronto soccorsi le persone gravi, si possono uccidere le persone anche attraverso i pirati informatici. Non c'è bisogno di una bomba, purtroppo, per uccidere le persone. Può essere sufficiente governare una diga, governare una centrale nucleare, governare un sistema di accettazione degli ospedali, bloccare tutti gli ospedali e tutti i pronto soccorso d'Italia vorrebbe dire, evidentemente, uccidere persone che non possono trovare le loro cure. Non sottovalutare, da non sottovalutare. E gli hacker non hanno nazionalità, nonostante si voglia sempre attribuire i cattivoni a quelli che a voi sono antipatici. Certo, se uno studia in laboratorio un hacker e poi se lo fa fregare con il successo degli americani, beh, quello non aiuta. Nel frattempo, il Sole 24 Ore ci dice, su un altro piano, e l'apertura del Sole 24 Ore, che ci potrebbe essere una tassa e sarebbero d'accordo tutti i paesi del G7 sulle grandi monopoliste, le felpe della Silicon Valley. La cosa non è del tutto sbagliata e, soprattutto, ci fa pensare una cosa. Da quando è che questa tassa può partire? Da quando non c'è più a governare gli Stati Uniti Obama e Hillary Clinton, ma il signore tremendo, inaccettabile come Trump, che le felpe della California non le ama, nonostante siano le aziende più importanti e le multinazioni più importanti che oggi sono gli Stati Uniti. Quindi questo cambio di passo, se dovesse venire confermato, sarebbe uno dei motivi per i quali l'Europa, invece di condannare Trump, lo dovrebbe apprezzare, sempre che alla fine resista alle sirene del nazionalismo, perché sono pur sempre aziende americane. L'altro tema di giornata e altri due temi di giornata e poi concludiamo, sono che ieri la stampa, nonostante il fatto l'accusasse di fare un po' um-a-um sulla questione delle banche, ha tirato in campo un nuovo politico che si sarebbe occupato di un'altra banca, non più della popolare dell'Etruria, ma della popolare dell'Emilia-Romagna. Chi è questo politico che, peraltro, in Emilia-Romagna ha qualche interesse, anche se non è un conflitto di interessi, oggi su tutti i giornali lo scappiamo, è Del Rio che dice che non c'è nessun conflitto di interesse, era una doverosa azione istituzionale. D'altronde lui si è occupato di altre crisi aziendali come l'Ilva, Piombino, l'Alitalia. Certo è che, questa è l'aggiunta che faccio io, e che forse non è proprio il ministro Del Rio quello che si occupa delle crisi bancarie, semmai lo è il ministro dell'Economia, la Banca d'Italia, perché le crisi bancarie hanno una loro particolarità che è nulla a che vedere con gli altri ministeri. Ma l'altra ed ultima considerazione che faccio, questi boschi Del Rio, Renzi, che si sono occupati di queste crisi bancarie, sono delle pippe, banalmente. E me ne frega niente conflitto di interessi, non conflitto di interessi. I risparmiatori ci hanno perso un sacco di soldi, le banche sono fallite, hanno venduto i non-performing loans, cioè i prestiti incagliati, sotto il ricatto dell'Europa a un valore bassissimo a 17 centesimi, quindi con un tasso di recupero bassissimo, distruggendo il mercato. Cioè hanno gestito l'affreddimento di quelle quattro banche, nonostante tutti gli interessi che oggi escono sui giornali, da principianti. Oggi una stampa seria non dovrebbe occuparsi del pettegolezzo, cioè dei gossip su Del Rio, la Boschi, sì, ci sarà il gossip, c'è il papà che devi aiutare, c'è Del Rio che ha il suo collegio elettorale, ma il punto vero è che sono stati delle pippe nel gestire queste banche, hanno fatto un disastro. In notizia dell'altro giorno che Ubi, giustamente, dopo aver comprato queste banche, una banca sana, gestita da Massia, Ubi compra queste banche che sono state già, hanno caricato i debiti su di noi, hanno più o meno salvato il management, le hanno fatte comprare a Ubi, e Ubi ovviamente di mezzo al personale, è ovvio. E allora di che stiamo parlando? Stiamo parlando che Del Rio e Boschi sono intervenuti, ma come spesso fa la politica, malissimo. Ultima questione riguarda la Serracchiani, che ieri si è permessa di dire che socialmente e moralmente trova ancora più inaccettabile che sia stata usata una violenza sessuale da chi chiede o tiene l'accoglienza in Italia. Cioè ha detto una banalità, cioè chi chiede l'accoglienza in Italia, ottiene l'accoglienza in Italia e violenta sessualmente una donna come è venuto nel suo territorio ieri, è per lei moralmente ancora più grave, è ancora più grave perché dice sei proprio venuto a casa nostra, è come l'ospite che entra in casa tua e che oltre ad essere entrato in casa tua ti violenta tua figlia. Voglio dire, la violenza è violenza, questo sa va a san dir, indipendentemente dal fatto che sia ospite o non ospite, è una cosa che deve essere punita col massimo della pena, ma potrà il presidente Serracchiani dire una cosa perfettamente umana come quella che ha detto? No, non lo può dire. Perché? Sapete perché? No, perché c'è Saviano, Saviano col dittino alzato, ma che cosa dici? Non è vero, è tremendo il razzismo, benvenuta nella schiera di Salvini, benvenuta nella schiera di Salvini, benvenuta tra le persone normali e non tra i Saviani, Deborah Serracchiani, benvenuta tra le persone normali, quelle che pensano che ci sia un legame tra il fatto che ci sia il degrado nelle città e la criminalità nelle città e le persone normali che pensano che se tu prendi un ospite a casa tua, quello deve stare in punta di piedi ed educato. Chiaro? Non mi sembra una cosa incredibile. Il Movimento 5 Stelle con Fico dice parole razziste, proprio loro che hanno parlato con Di Maio nella mia trasmissione dei taxi che vanno a prendere i migranti dalle Libie e li portano in Italia facendo un casino da parte sempre di Saviano. Cioè, qui è una roba incredibile. Il Corriere della Sera fa un pezzo lunghissimo, dice protagonista dello scivolone. Ma quale scivolone? Quale cazzo di scivolone è? Giornalista del Corriere della Sera, che è uno scivolone, e dire che un ospite a casa tua si deve comportare bene? Io non lo so. Io dico veramente, abbiamo ribaltato il mondo. Abbiamo ribaltato il mondo. Vabbè. Protagonista dello scivolone. Tre ultime notizie. Una è nella rubrica di Mattia Feltri sulla stampa. Vengo a scoprire che un magistrato a Macerata sequestra il campo di Ussita, una delle zone terremotate, non so se si pronuncia così, sequestra un camping là perché c'erano due o tre casette che aveva messo il sindaco che non erano a norma. Sostanzialmente a Ussita sono rimaste 15 persone su 450. E tu sequestri il campo, caro mio amico magistrato, dove il sindaco disperato cerca di mettere delle casette di legno temporanee per far sì che qualcuno possa vivere là dentro perché deturbano il paesaggio. Dopo il terremoto, cioè Mattia Feltri scrive un pezzo, 20 righe, che raccontano questa Italia da cialtroni burocrati per cui non si può fare nulla. Italia oggi racconta invece che a Modena, mentre sequestrano a Ussita il camping, a Modena si sono azzardati a mettere la tassa sugli zerbini perché sarebbero delle pubblicità occulte fuori dalla tassazione. Cioè noi abbiamo il web, Google, Apple, Facebook che ci stanno facendo un culo così e invece i nostri uomini importanti della burocrazia che noi paghiamo sono i nostri dipendenti, ci multano perché facciamo la pubblicità sui zerbini. Questi dovrebbero essere multati per esistere. Ultima questione, Pizzarotti, sempre secondo Italia oggi, farà una lista con l'abbonino. Non so se il declino è superiore di Pizzarotti che tanto non aveva nessun declino da dover dimostrare o dell'abbonino. La triste parabola di una donna che non mi è mai piaciuta. Bello essere radicali molto... è proprio la triste parabola della radicale che ho sempre considerato con quella spocchiettina lì sotto al naso che non aveva nulla a che fare con il sano fuoco dei radicali che mi sembra molto più nobile che di questa signora che giustamente finisce con Pizzarotti. Ciao!